una sconfitta pesante questa tua prima al palapanini e con qualche giocata anche da parte di grande qualità qualche momento invece di difficoltà sia personale che ovviamente di squadre ma come deve essere letta questa sconfitta letta molto in termini di numeri io preferisco una vittoria però è così non abbiamo giocato molto bene come abbiamo detto di fare di essere paziente sulle palle difficile abbiamo fatto troppi errori anche nostra battuta non era non era molto efficiente è difficile giocare così hanno vinto 3 a 0 se ti ritrovi un campionato italiano di altissimo livello voi insomma da queste poche partite allenamenti insomma che fatti con modena modena ci può stare a questo livello insomma dove vedi i margini di crescita della nostra squadra si possono possiamo fare perché anche allenamento facciamo meglio che questo era una partita difficile che dobbiamo togliere dimaticare subito pensare a verona la partita e fare allenamenti bene tutta la settimana prossima e focus su verona